Bentornati, siamo qui con una nuova puntata di Marketing in Edilizia, con me c'è ancora Gianluca Clagiello che è il nostro strategist, copywriter, copywriter strategist insomma. Quindi Gianluca bentornato, sono contenta diverti qui. Ciao Vale, saluti a tutti. Ciao, ciao a te perché oggi si parla di una cosa su cui noi proprio sguazziamo e cioè Marketing in Edilizia, le parole da dare o altrimenti dette le parole fuffa, ma di questo parliamo dopo la sigla. Allora, eccoci tornati dopo la nostra bella sigletta e vi abbiamo promesso tante parole fuffa e noi siamo tipi che mantengono le promesse. Quindi partiamo subito a bomba e io andrò ad elencare una serie di parole che avete sentito tutti e che probabilmente avrete anche usato. Disclaimer, qui non si fanno colpe e crocifissioni a nessuno, siamo qui per costituirci e per migliorarci. Quindi assolutamente non siamo qui per bacchettare nessuno, ma parole come qualità, professionalità, cortesia, giusto rapporto, qualità prezzo, tutte queste parole qui, insomma avete capito un pochino l'anno dazzo, ecco, sono tutte parole che noi leggiamo o ascoltiamo spessissimo per quanto riguarda prodotti, mercato, marketing, compra, acquista, eccetera, eccetera, presentazioni, branding e veramente alzi la mano chi non le ha mai lette, non le ha mai incontrate o chi anche non le ha mai usate. Ma la verità, come dire, andiamo anche a scoprire un pochino l'acqua calda da un certo punto di vista, è che utilizzare queste parole sono il modo migliore per perdersi nel mare dei tanti. Quindi questo significa proprio ottenere l'esatto posto di quello che vorremmo ottenere, cioè farci riconoscere, emergere sul mare delle aziende, dei professionisti che offrono il nostro stesso prodotto, il nostro stesso servizio e essere anonimi, che nel marketing significa assolutamente insuccesso, sconfitta e anche purtroppo investimento andato a vuoto. Questo tra le altre cose, ora magari faccio così un collegamento di pala in frasca, significa anche dover poi cedere a quella che è la guerra del prezzo, a prendersi tutti i tipi di clienti che arrivano senza poter avere la libertà di lavorare solamente con i clienti e con cui non siano problemi, che pagano quanto chiediamo, eccetera, eccetera. Ma questo poi ci arriveremo un pochino con calma, con più ordine insieme, insieme proprio a Gianluca. Perché tutto questo? Perché utilizzare certe parole, utilizzare certe espressioni, certe frasi è come dire, è come presentarsi a un'altra persona e dire, ciao, io mi chiamo Valentina, mi chiamo Gianluca, mi chiamo Alberto e ho due gambe, due braccia, due occhi. Il che, se ovviamente non siamo portatori di un certo handicap, vuol dire essere esattamente come tutti gli altri. Quindi, insomma, questo è l'esempio da cui vogliamo partire. Vuol dire non distinguerci, non farci percepire come differenti che è la base di un marketing che funziona, è la base di una svolta a livello di aumento dei margini, a livello di aumento della nostra capacità di attrarre i clienti che vogliamo. E quindi, a questo punto, Gianluca, come fare per liberarsi per sempre di questo tipo di terminologia, ma anche della tentazione di utilizzare un certo tipo di terminologia? Spiegacelo tu, raccontacelo tu. Una domanda semplicissima. Sempre, io sempre. Mi collego proprio a una domanda che facciamo durante le consulenze a imprenditori e titolari di attività in edilizia e che è una delle domande poi più belle, anche proprio per l'impatto che ha sull'imprenditore. Arriva un momento durante la consulenza in cui noi chiediamo, ok, perché devo scegliere te invece di un tuo concorrente? Pam! E accade di tutto. Una delle più belle è stata, questo imprenditore ci ha risposto, si è fermato un attimo e ha detto, bella domanda, sai che me lo chiedo anche io? E mi ha fatto proprio scompisciare dalle risate. Quindi è proprio davvero una delle domande più belle da vedere dall'esterno, proprio perché è una domanda che mette, tra virgolette, un pochettino in crisi la maggior parte degli imprenditori e, tra virgolette, li costringe anche a uscire dai propri panni di imprenditore titolare dell'azienda ed entrare nei panni del cliente, del concorrente, del mercato, di guardarsi dall'esterno e capire qual è questo perché, questa motivazione forte, questo elemento differenziante che consente effettivamente all'imprenditore di fare la differenza sul mercato. Ora che cosa succede? Molto spesso appunto questo lavoro non viene fatto oppure viene fatto in maniera non approfondita e quindi vengono fuori tutte queste parole strainflazionate come qualità, professionalità, cortesia, tradizione e innovazione, famiglie, eccetera, eccetera. E poi, per carità, il paradosso qual è? È che in realtà queste parole si riferiscono ad una cosa reale nell'azienda. Il problema è quando usiamo tutti quanti le stesse parole e quindi non riusciamo a fare la differenza, innanzitutto nella comunicazione e poi ovviamente anche nel risultato finale. Una delle prime cose che si possono fare è quella che il chiamiamo la prova del contrario, ovvero esiste la possibilità di comunicare il contrario di quello che noi stiamo presentando, ovvero esiste un'azienda che dice noi non puntiamo sulla qualità, noi siamo un'azienda di non qualità, noi siamo un'azienda scortese, noi siamo un'azienda sprofessionale. È talmente paradossale come cosa che si capisce subito che non è possibile e quindi in un certo senso non è un elemento su quale noi possiamo fare leva. Ma prendiamo in maniera molto semplice, non esiste un contrario dell'elemento differenziante se io sono un produttore di finestre in legno. Quindi, è vero, esistono altri materiali, ma io posso puntare in questo caso se ovviamente tutto il mio business effettivamente mi porta a risultati in questo senso e io posso scegliere un elemento differenziante che si vede, si sente se si tocca. Potrebbe essere un particolare materiale legato soprattutto a un particolare sistema di lavoro e noi in consulenza in generale con i clienti di cui parliamo e di cui seguiamo i progetti facciamo un lavoro molto approfondito sul sistema di lavoro affinché questo sistema di lavoro venga percepito come un valore in più per il quale i clienti possano risposte a pagare di più. Potrebbe esserci anche un servizio particolare. Ma appunto, riavvolgendo il nastro e facendo al cliente di nuovo la domanda perché scegliere te invece di un tuo concorrente, subito dopo, qualunque sia la risposta, noi facciamo un check che sia di tangibilità e concretezza. Ovvero, va bene questo perché, ma questo perché contiene un elemento concreto e tangibile per i clienti che ti differenzia davvero. Ti differenzia davvero anche dal punto di vista dei numeri perché magari effettivamente questo è il punto di forza del tuo prodotto a più alta marginalità che poi è il prodotto che tu attualmente riesci a vendere di più. Se è così, abbiamo già fatto bingo. Altrimenti bisogna fare tutta una serie di valutazioni, ma comunque non possiamo mai rimanere indietro o perderci questo elemento di concretezza e tangibilità. Perché se io dico io lavoro meglio degli altri, va benissimo la mia convinzione, ma non ha una sua vendibilità rispetto al messaggio di marketing, perché se invece lo riesco a dimostrare senza puntare dal punto di vista del migliore, ma principalmente dal punto di vista del diverso, è tutto un altro discorso. Anche perché al contrario io non direi mai che lavoro peggio degli altri, quindi tieni da me. Bisogna essere molto attenti e la cosa più bella è che in realtà questo elemento esiste già, per cui nella maggior parte dei casi il lavoro che facciamo noi è un lavoro di estrazione, un lavoro bellissimo, ma noi andiamo a far vedere all'imprenditore quello che lui in realtà già fa, ma è talmente immerso in questa cosa che in un modo o nell'altro è come se ci avesse gli occhi coperti e non lo riesce a fare. Quindi è un lavoro, come dire, che all'apparenza sembra semplice, però in effetti c'è bisogno proprio di scavo, c'è bisogno di analisi e concentrazione. Allora io ti chiederei di farmi qualche esempio, insomma c'è qualche esempio concreto di lavori che abbiamo fatto in questo senso, di analisi che abbiamo fatto in questo senso, per andare oltre le parole fuffa, ora ho deciso che le chiamo così in questo podcast, le parole fuffa è trovare la parola differente, la mia parola è differente. Quindi fammi qualche esempio concreto. Assolutamente. Allora, facciamo un esempio molto immediato, immediatamente comprensibile per chiunque, per quanto riguarda la lattoneria. Beh, è una cosa semplice, a proposito di cose. Perché poi, rondaie, scossaline, eccetera, fondamentalmente cosa succede? In un settore dove la maggior parte delle offerte sono con prodotti in plastica di serie e consegnati in circa due settimane. Abbiamo invece quest'altra azienda che i prodotti non sono in plastica ma sono in rame e piove e potete immaginarne i vantaggi. La consegna non è in due settimane ma è in tre giorni e in alcuni casi di emergenza anche in 24-48 ore. E poi è un'azienda che li produce, non li distribuisce. Quindi può farti su misura, può farti appunto in tempi record, se li fa in un materiale più resistente. Questi sono degli elementi immediatamente tangibili che un imprenditore che si trova a richiedere e ad avere necessità di questo tipo di prodotti sa benissimo la differenza che possono fare. E a quel punto, anche se si tratta di prodotti che hanno un prezzo superiore alla media di mercato, i vantaggi sono talmente potenti che ricoprono tranquillamente l'investimento. E questo è un caso. Un altro è ristrutturazione. Una ristrutturazione specifica per un certo tipo di clienti, ovvero clienti che sono investitori immobiliari. Non sono persone che ristrutturano una casa perché vogliono viverci, ma una casa perché vogliono rivenderla, vogliono fare un'operazione immobiliare che gli consenta di guadagnare. E questo è un'altra cosa anche nel momento in cui noi riusciamo a garantire un unico interlocutore, zero intermediazione e zero pezzi che si perdono, perché comunque la ristrutturazione richiede il lavoro contemporaneo di tanti professionisti. Poi anche ovviamente le tempistiche. Se io ti garantisco che te la consegno entro questo periodo, insieme a tutto il resto, faccio ovviamente la differenza. Un altro esempio ancora. Sappiamo che per quanto riguarda la vendita delle finestre abbiamo produttori, distributori, showroom, palegnameriglie, aziende piccole, grandi, eccetera. Ma quello che sappiamo è che anche in questo caso ci sono diversi pezzi, soprattutto quando si parla ad esempio della progettazione come della parte fiscale. Un'azienda che può permettersi di dire noi ti seguiamo in tutto, ovvero tu entri da noi, non c'è bisogno, se non ce l'hai il progettista te lo diamo noi. Abbiamo una squadra interna, abbiamo la nostra produzione di finestre, abbiamo il nostro servizio di progettazione, abbiamo i nostri architetti e ingegneri interna, abbiamo anche i nostri esperti fiscali interni, tu entri e noi possiamo prenderci la responsabilità di dirti pensiamo a tutto noi e come entri esci con il risultato completo senza bisogno di dover ricorrere ad altre figure che non siano tutte quelle che ti forniamo. Questa è un'altra cosa che ha un impatto. Insomma crea sicuramente la differenza, cioè marca sicuramente la differenza, io mi metto subito nei panni ovviamente di un potenziale cliente, di un acquidente privato, una persona X che ovviamente non è addentro tecnicamente a questo mondo, ovviamente sto molto attento a come mi viene comunicata una determinata cosa ed è chiaro che la mia fiducia e anche la mia attenzione vengono calamitate da un tipo di parola che mi comunica cose concrete, cose che si vedono, si sentono e si toccano come hai detto tu. Ma faccio un passo in più perché è vero che la ricerca di queste parole e l'utilizzo, l'impiego di queste parole, i determinati contenuti, i determinati messaggi, in tutto quello che è poi la comunicazione che facciamo all'esterno, il marketing che facciamo all'esterno possono essere dette dall'azienda direttamente, ma ancora più forte è se le facciamo dire direttamente ai clienti, cioè alle persone che noi abbiamo servito, delle persone che hanno beneficiato del nostro servizio, del nostro prodotto, perché in questo modo diciamo delle parole che già sono portatrici di significato in maniera molto forte di loro dette da determinate persone che sono in questo caso non direttamente noi o i nostri collaboratori, ma i nostri clienti, quelli che ci hanno pagato per il nostro servizio. Beh, secondo me lì poi l'effetto boom è esagerato perché appunto mi immagino che mettere i nostri clienti in condizioni di parlare precisamente del nostro elemento differenziante e raccontare magari come è andata l'esperienza nel nostro showroom o nella nostra azienda, qual è stata l'esperienza con il cantiere che abbiamo aperto e chiuso con il lavoro, l'effetto wow che siamo riusciti ad ottenere una volta che abbiamo consegnato il lavoro eccetera eccetera, o ancora come le installazioni che abbiamo fatto hanno migliorato la vita quotidiana di queste persone, beh è sicuro che un racconto di questo genere ha un peso, un impatto, un'importanza completamente diversa da quella che possono avere parole come quelle con cui abbiamo aperto questa puntata, no? Qualità, cortesia, rapporto qualità-prezzo, ma la cosa, il vero rapporto qualità-prezzo da perseguire è quello che impatta direttamente sulla vita delle persone, quindi raccontare che cos'è questo impatto, a meglio, a raccontare cos'è questo impatto, no Gianluca? Assolutamente sì, proprio perché ci può essere comunque una componente di scetticismo tra virgolette fisiologico in chi ci incontra per la prima volta e fin quanto siamo noi che tra virgolette ce la suoniamo e ce la cantiamo ha un certo impatto, ma nel momento in cui oltre a noi ci sono decine e decine di persone con patch, nomi o cognomi, foto del prima e dopo, video e riferimenti che ci fanno capire che sono effettivamente delle cose estremamente reali, a quel punto noi abbiamo fatto bingo perché non siamo più solo noi a metterci la faccia, ma sono le persone che hanno investito su di noi, ci hanno dato fiducia e questa fiducia è stata talmente ripagata che non si sono limitate semplicemente al fatto di aver ricevuto un lavoro ben fatto con tutti i grigni, ma addirittura sono persone che sono risposte a farci da testimonial e questa è una cosa che è sottovalutata per n motivi, ma immaginiamoci un'azienda che fa 50 cantieri, 100 cantieri all'anno, ma se non solo 100 che riesce a trasformare in recensioni, testimonianze, casi studi, forse lo sono 50, ha comunque creato un asset importantissimo che poi può diventare un contenuto innanzitutto che cresce nel tempo perché la testimonianza non ha una scadenza e poi può essere convertita in nmodi, ci possiamo fare le pubblicità su Facebook Ads, su Google Ads, possiamo effettivamente creare un quaderno delle testimonianze, un libro delle testimonianze, possiamo inserirlo all'interno di una guida, possiamo fare n cose, tutte che vanno poi a rapporzare quel perché dal momento che non siamo più noi a dirlo, ma sono loro che lo dicono con parole loro e comunque tutte queste parole indicano quello che noi effettivamente vogliamo fare a diventare le persone. Vero. Infatti a questo proposito ti chiedo un attimo di fare un esercizio, perché l'esercizio iniziale è stato stupendo, quello del perché le persone comprono a venno dagli altri, no? Però facciamo un esercizio più sull'utilizzo della parola e cioè ti chiedo di fare insieme, insomma di fare questo, questo esercizio sulla parola strausata, su una parola strausata che è leader, no? Quindi il leader di mercato, il leader di settore, il leader di zona, eccetera, eccetera, come affronteresti e butteresti nella spazzatura questa parola al leader e come invece faresti passare questo concetto senza per forza usare questa parola, cioè come si fa. Il punto è che è una parola sicuramente abusata ed è abusata forse per un'idea un po' distorta legata al fatto che noi dobbiamo essere per forza i migliori, i numeri uno, i leader di tutto, altrimenti tra virgolette non esistiamo e questo è vero e valido in maniera limitata. Prendiamo appunto il caso di un'azienda che opera a livello locale. diventa anche più semplice fare questa valutazione anche numerica, cioè se la tua azienda è veramente leader nella tua zona, perché il numero è alla mano, la quota di mercato che tu hai è superiore ed è predominante, va benissimo. Se tu sei il primo nome, oltre a essere il primo numero, ma sei anche il primo nome che viene in mente alle persone nella tua zona quando si parla di finestre, di strutturazione o comunque si parla dei tuoi prodotti e servizi, va benissimo nel senso parlare di leader. Ma se non ti trovi in questa posizione, è chiaro, diventa contoproducente parlare o presentarsi come leader. Allora a quel punto si tratta di concentrarsi su quell'elemento differenziante che ci rende diversi e unici e magari tra virgolette ci rende leader in quella cosa che noi facciamo in maniera unica e differenziante rispetto ad altri. Ma questo è proprio il punto fondamentale. E quindi ritornare a prendere quelle parole che effettivamente si riferiscono ad una realtà, non quelle parole che sono semplicemente quello che noi diciamo di noi stessi e che non hanno un riscontro nei clienti e nel mercato. La stessa cosa si può fare, l'esercizio si può fare per quanto riguarda la famosa espressione rapporto qualità-prezzo, no? Giusto rapporto qualità-prezzo? In questo caso una provocazione. Il giusto rapporto qualità-prezzo significa io ho speso 10, ho avuto qualità 10 e quindi è come se ci fosse un elemento di parità. Per assurdo non è quello che vogliamo. Noi vogliamo che, tra virgolette, la qualità, l'esperienza, il risultato, l'impatto finale sia molto molto superiore al prezzo, proprio perché abbiamo staccato di molto le aspettative che aveva il cliente e soprattutto lo facciamo anche a fronte di un prezzo che è superiore alla media, perché il giusto rapporto qualità-prezzo non ci viene in mente per i serramenti di lusso o per le ristrutturazioni di lusso. Quindi ragioniamo proprio in questi termini proprio per dire, ma non sarà che col giusto rapporto qualità-prezzo noi stiamo portando alla percezione del cliente qualche cosa che comunque tra virgolette è parente ad economico? Se noi siamo economici, i numeri ci danno ragione e effettivamente puntare sull'economico ci consente di fare la differenza, va benissimo. Ma altrimenti seguiamo una via diversa, ci differenziamo e avremo un rapporto qualità-prezzo talmente sbilanciato che nonostante il prezzo più alto, l'esperienza e il valore percepito dal cliente sarà così, quindi questo è il prezzo e questo è il valore percepito dal cliente, quindi il cliente sarà sempre stracontento e non dirà mai ho speso il giusto oppure ho speso troppo. Ma ci ho speso una cosa che poi effettivamente è stata superata dal risultato e in quel caso magari non ragionerà nemmeno in termini di spesa ma saremo stati bravino a farlo ragionare in termini di investimento perché per una ristrutturazione, un cambio di finestre o comunque un intervento importante che ha a che fare con la cassa e con l'edilizia si tratta ovviamente di cose che non avranno una durata breve ma che sono destinati a durare per il tempo. sono andati un po' quasi a cercarla ma perché era già all'interno di che cos'è l'azienda, come lavora, quali sono i suoi valori, quali sono le persone che ci lavorano dentro, come interagiscono tra di loro, che tipo di clienti la frequentano eccetera eccetera, insomma quindi vuol dire c'è solo bisogno, solo tra virgolette, bisogno di un occhio esterno per far saltare fuori queste parole, sbloccarle e che poi diventano la base appunto dell'elemento differenziante di ogni singola azienda, quindi è importante fare questo lavoro, un lavoro un po' diciamo psicologico ecco, certe volte è psichiatrico però... allora sì, si tratta di un lavoro umano ed è davvero bellissimo e anche emozionante innanzitutto perché capita spesso che gli imprenditori ci dicano ma queste domande non le aveva mai fatte nessuno e questo è bello perché si crea quello spazio di quelle ore che ci si prende proprio per mettere tra parentesi l'ordinarietà, l'operatività e con il nostro supporto guardare insieme dall'esterno qualcosa in cui l'imprenditore è completamente imbevuto 12-14 ore al giorno da tantissimi anni, soprattutto poi in quei casi dove effettivamente ha un senso parlato di tradizione e innovazione, magari semplicemente perché è un'azienda che viene da tre generazioni sta passando adesso attraverso appunto un passaggio generazionale e quindi c'è questo momento importante in cui bisogna andare ad estrarre diciamo così l'essenza dell'azienda e questo è proprio una cosa bella e poi diventa estremamente profittevole ed efficace proprio perché l'imprenditore si arriva a un punto in cui dice capita voi siete state capaci di farmi vedere chi sono io in un modo in cui io lo sapevo già perché sono io e lo vivo ma non ero capace di esprimerlo a parole, non ero capace di esprimerlo in un piano di marketing, in un piano di comunicazione, non ero capace di far sì che questa mia identità poi diventasse un sito web, un contenuto, una strategia, un modello di business nuovo in alcuni casi e un mondo, un sistema, un ecosistema completo che voi grazie al lavoro che abbiamo fatto insieme siete stati capaci di costruire. dai molto bello ma è molto bello da entrambe le parti eh lo diciamo noi da professionisti da questo lato ma veramente da entrambe le parti ecco questo ci tengo a dire. è un grande è un grande arricchimento perché poi appunto ne vedi tanti tutti sono estremamente focalizzati sono appassionati ci danno dentro e ci emettono se stessi quindi è importante ed è bello anche restituirvi questo loro darsi in quello che fanno attraverso un sito che effettivamente faccia venire fuori chi sono loro, perché fanno quello che fanno, come lo fanno, cosa fanno e così via. Quindi questo è un è veramente un appunto un una soddisfazione da da entrambe le parti, in qualche cosa che ti ti fa veramente sbocciare da un certo punto di vista e ti significa che bello guarda tu che cosa siamo riusciti a tirare fuori, noi siamo contentissimi perché è quello che abbiamo visto del cliente. Il cliente è contentissimo perché sapeva di essere così ma non era stato capace di estrarlo, di metterlo fuori e a quel punto abbiamo fatto, abbiamo vinto successo. Esatto. Va bene Gianluca, abbiamo fatto la dichiarazione d'amore con il nostro lavoro e speriamo insomma di avervi trasmesso quella che è, come dire, l'importanza di dribblare le parole fuffa perché appunto invalidano poi anche tutta una serie di lavoro che uno fa all'interno della propria azienda per offrire concretamente un servizio ad altissime performance insomma, quindi le cose possono essere collegate. Io vi ricordo sempre che se volete potete iscrivervi al canale YouTube o al canale Spotify di marketing in edilizia e in modo tale da attivare le notifiche per ricevere l'avviso ogni volta che esce una nuova puntata. Se volete invece approfondire tutte le chicche che vediamo qui durante queste puntate potete andare sui nostri siti marketingandimetro.it guidoalberti.it perché soprattutto nella sezione blog trovate tanti casi studio, tanti approfondimenti e tanti ehm anche ehm come dire tante lezioni che ha tenuto Guido e da cui noi abbiamo tirato fuori tanti spunti per per metterli per iscritto e metterli a disposizione di tutti ehm di tutte le aziende tutti i professionisti che operano in edilizia. Io vi do appuntamento alla prossima puntata, ringrazio Gianluca di essere stato con noi, si trova che tornerà. Grazie a te e grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima, grazie. Ciao.